Buongiorno, io sono Patrizia Parca, sono una designer, mi occupo nello specifico di creare loghi per le aziende, loghi professionali. Ho deciso di venire a WinTheBank perché avevo bisogno di sapere di più su questo mondo, sul mondo delle banche, sul mondo dei finanziamenti, argomenti di cui io effettivamente sapevo praticamente nulla, molto molto poco e avevo bisogno di avere una chiarezza maggiore. Mi aspettavo da questo corso, avevo il timore come magari altre persone che partono da una conoscenza debole di questi argomenti, di non riuscire a seguire il corso, di non riuscire ad afferrare tutti gli argomenti. Invece nonostante la complessità, la densità dei contenuti trasmessi in questo corso, sono riuscita a seguire, sono riuscita a capire alcuni punti di vista diversi sul mondo delle banche, sul mondo dei finanziamenti, su come presentarsi alle banche che è difficile, era quasi impossibile sapere senza frequentare questo tipo di corso, senza poter accedere a questo tipo di contenuti. Quindi mi aspettavo quello che effettivamente ho ottenuto, cioè di avere una padronanza di alcune informazioni maggiore. I contenuti più utili che ho trovato in questo corso sono quelli relativi proprio all'impostazione, alla procedura da seguire per presentarsi alle banche. Quindi mi è rimasto molto chiaro il concetto che ci sono delle procedure precise, ci sono dei passi da fare, ci sono delle documentazioni da portare, un certo modo di porsi e quindi anche un punto di vista, un approccio totalmente differente al mondo delle banche rispetto a quello che pensavo prima del corso. Trovo che Valerio Malvezzi sia una persona di una preparazione sconfinata, ma anche una persona molto capace di trasferire queste informazioni, che non sono informazioni semplici da trasferire alle persone. Io, come già detto, partivo da una conoscenza pressoché nulla e mi sento veramente arricchita da questo corso e proprio riesco ad avere almeno una visione d'insieme che prima era nebulosa e invece adesso è molto chiara. Grazie a tutti!